Che cos'è il rigore metodologico? Il rigore nel metodo, a mio avviso, è fatto di due cose essenzialmente. La prima è ovvia e facile. La trasparenza del percorso metodologico. Se io ho realizzato un questionario con un campione, devo dichiarare come è stato fatto il questionario, il campione come è stato estratto e così via. Se ho fatto di focus group dovrò dire quanti, come, elaborati in che modo, chi ha partecipato e così via. La seconda questione più complessa. Io devo poter spiegare perché in quell'occasione ho pensato a un questionario, in un'altra occasione ho pensato di focus group, in un'altra a qualche altra cosa. Devo poter spiegare perché il formato informativo ottenuto costruendo il dato con quella tecnica, con quella procedura, sia esattamente quello utile ai fini di rispondere al mandato valutativo, se sto lavorando in un contesto valutativo, o che risponda adeguatamente alle ipotesi se sto lavorando in un contesto di ricerca tradizionale. Devo poter spiegare perché ho fatto quelle cose. Se no, può apparire che ho fatto un questionario per mancanza di fantasia, di immaginazione metodologica. Si può pensare che ho fatto di focus group perché sapevo fare solo quelli e non perché erano opportuni. Ecco, l'opportunità, l'adeguatezza, la necessità di usare una tecnica anziché un'altra è mostrata dal collegamento fra il formato informativo del dato costruito e mandato ipotesi.